ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video un video di nail art dove andremo a realizzare Homer Simpson che già avevo detto anche in una live e questa volta sono riuscita dato che Huawei non si sa cosa c'ha l'altro telefono dove vedevo le immagini insomma per creare le varie nail art e niente allora ho usato il telefono di mamma mamma è ritornata a casa come avete visto che ho fatto anche la live va bene comunque e quindi uso il telefono di mamma faccio le foto ok allora andremo a realizzare Homer Simpson andiamo a vedere i colori che ci serviranno dei gel color allora andremo a utilizzare il poison black che è il fast f16 pure white che è il fast f01 poi buttercup che è un giallo che è un classic c56 ve lo faccio vedere subito eccolo bellissimo poi andremo a utilizzare beautiful che è il fast f83 che è un altro giallo però molto più chiaro molto più tenue voi lo vedete molto forte ma è molto molto più chiaro fidatevi e come vedete mi sono rifatta le unghie qui adesso mi sta sporcata va bene ho fatto questo qui che è cucciolo alcuni di voi già l'hanno vista su facebook o instagram che è cucciolo dei sette nani molto carino ho utilizzato il semi permanente la femme dublin non mi ricordo il codice ma si chiama dublin che è bellissimo qui ho messo vabbè delle micro perle con i brillantini qua l'avevo messo a partite vabbè da qua invece ho usato questo sempre i brillantini qua sempre l'effetto opaco e qui sopra ci ho messo multicolor di passione unghie eccole qua le unghiettine che carino va bene allora adesso va bene voi vedrete che è già l'unghia preparata quindi adesso qui andrò ad applicare il pour white su tutta l'unghia poi metterò il mat per far diventare l'unghia paca e poi andremo a realizzare questa nell'arte quindi ci vediamo a fine video ciao 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 allora questo qui è Homer Simpson molto carino mi piace molto come mi è venuto voi cosa ne dite fatemelo sapere sotto questo video nei commenti non è malvagio l'occhio qui fosse un po' troppo largo dovrebbe essere un po' più stretto ma qui fate caso che c'è il naso perché sta girato un po' di lato a tre quarti quindi io gli copri l'occhio se no dovrebbe essere più o meno la stessa grandezza di quest'altro quindi per questo pare strasbico ma non è niente molto carino non è malvagio non c'è da essere tanto precisi su questo cartoon che è tipo come fosse uno schizzo diciamo infatti vedete con le righe larghe fatte apposta e niente niente spero che comunque Homer Simpson vi sia piaciuto come vedete qui c'è la guanciotta così perché sta mangiando la ciambella niente spero che vi sia piaciuto se è stato così mettete il pollice in su sotto il video mi raccomando fatemelo sapere commentatemi se vi piace oppure no anche da lontano niente io vi saluto vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao